Prefetto Romeo, oggi al Polo Universitario è un importante convegno in occasione del Giorno della Memoria. Come mai è importante non dimenticare? Non dimenticare è importantissimo, perché quello che accadde durante il periodo nazifascista non deve più accadere. Quindi oggi noi celebriamo il ricordo della Shoah, delle vittime dell'Olocausto e abbiamo voluto dedicare questa giornata ai giovani, che come vedete sono tanti. Che cosa vogliamo dire ai giovani? Di credere nella democrazia, nella libertà, di non farsi adulare da ideologie o tesi che ispirano alla violenza e alle dittature, perché quello che è accaduto 74 anni fa potrebbe ancora accadere. Purtroppo la cattiveria umana con l'esperienza di Auschwitz e dei Lager ha conosciuto il peggiore dei mali in tutta la storia dell'umanità. E allora oggi vogliamo richiamare e in modo particolare richiamo i ragazzi sull'importanza di essere fedeli alla democrazia, di riconoscere il valore della libertà che è sancito dalla nostra Costituzione. Il valore dell'uguaglianza che è nella nostra Costituzione. L'importanza di non discriminare le razze che è nella nostra Costituzione. Ecco, verrà consegnata anche una medaglia d'onore? Sì, verrà consegnata una medaglia d'onore con gesta dal Presidente della Repubblica ai familiari di un ex deportato nei campi di concentramento. Grazie a tutti! Grazie.